Consigliere Carazzo, neoconsigliere delegato al patrimonio, una bella eredità, un impegno durissimo questa qua. Sì, innanzitutto ringrazio il sindaco per la delica, ma soprattutto è giusto sottolineare la maturità delle forze politiche, che visto che la legge del Rio purtroppo non dà a chi vince le elezioni della città metropolitana una maggioranza, abbiamo messo i partiti da parte e per la tutela dei territori abbiamo deciso di amministrare insieme questa città metropolitana. Senza quest'atto di maturità dei consiglieri e delle forze politiche purtroppo la città metropolitana avrebbe avuto difficoltà a partire, ma siccome ci siamo sentiti chiamati dalla responsabilità che i cittadini ci hanno affidato abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. Una delica pesante, quello del patrimonio, proseguirete sul cammino giabbiato? Sì, l'abbiamo detto qui oggi a Portici all'inaugurazione dei lavori della Reggia, nel ringraziare il vice sindaco Lebro per tutto quello che ha fatto, ci sarà sicuramente come giusto nelle cose fatte per bene una continuità e soprattutto ci sarà una concertazione con David, con Domenico Marrazzo per il proseguo dell'attività, sicuramente ci sarà giusto continuità perché poi loro conoscono la storia, hanno l'esperienza e è giusto continuare nel loro segno. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.